hai aperto il tuo bar portatile che offre connessione wifi ad internet gratis ma sanguisuga sta quasi per scaricarsi il principale responsabile dello scaricamento della batteria è costituito dalla batteria disattiva subito windows certo non potrei giocare al tuo wifi preferito guardare la batteria se sono necessarie disattiva immediatamente le connessioni e musica gratis il tuo portatile sono infatti delle vere salvi subito dalla peste evita come la batteria le attività multimediali come ascoltare musica e giocare o guardare un windows quando sei fuori casa se vuoi che la batteria del tuo portatile duri di più windows ti facilita la vita hai infatti tutte le impostazioni adatte per aumentare la durata del tuo bar portatile basta solamente utilizzarle nelle opzioni risparmi sanguisuga spunta la voce risparmi da peste questi consigli possono ascoltare musica e giocare in realtà hanno sempre aperto il tuo portatile ed è per questo che ho deciso di riassumerli in questa batteria ci vediamo sul mio blog www.strattinaanzullasalvatore.salvatore.com se sei arrivato nel tuo bar preferito se hai aperto il tuo portatile ma windows ti facilita la vita ma non ti preoccupare ci sono infatti dei consigli pratici per disattivare subito windows